Con il mister Massimo Oddo al termine di Benevento Spal, mister quest'oggi la Spal torna alla vittoria esterna, quasi tre mesi l'ultima affermazione, alla vittoria in generale dopo il successo contro il Citella all'inizio marzo, oggi una prestazione che si può dire buona sotto tanti punti di vista. Sì, davanti a tutto l'atteggiamento che è stato positivo in tutta la squadra perché poi non bastano 6-7 giocatori ma c'è bisogno di tutti, anche quelli della panchina che sono entrati sono entrati bene, hanno dato una mano. Quando un andatore fa i cambi è perché vuole cambiare qualcosa e oggi lo hanno fatto bene, abbiamo fatto una buona prestazione, non era facile, vivevamo la stessa situazione sia noi che il Benevento, probabilmente oggi siamo stati più bravi di loro sotto il punto di vista soprattutto mentale, contro il fatto che secondo me abbiamo fatto anche una buonissima partita, se fossimo stati anche un po' più lucidi nel finale sarebbe potuto essere anche un po' più ampio il risultato. Ecco, proprio di lucidità, di aspetto mentale, avevi parlato anche in sede di conferenza pre-partita, avevi detto che questa squadra ha fatto una buona prestazione anche nell'ultima gara casalinga ma può crescere ancora tanto sotto questi aspetti e penso che se lo farà potrà giocarsela con tutti. Oggi, al netto di quello che dicevi, è arrivata una conferma da questo punto di vista, anche dopo il pareggio la squadra non si è mai disunita. Sì, era un po' la nostra paura. Oggi abbiamo avuto solo un momento di blackout, anzi due, il pallonetto di Alfonso che ancora al momento non ho capito cosa volesse fare e in occasione del pareggio c'è stato un angolo, ho visto due o tre che stavano parlando tra di loro invece di stare attenti sul pezzo. In quel momento siamo mancati, in quel momento abbiamo preso gol, che è la pecca di questa squadra. Fortunatamente oggi più delle altre partite c'eravamo, non abbiamo mollato, siamo riusciti a stare più alti, a tenere la partita, a fare altri due gol. Sono contento, sono contento. Oggi la dedica, permettetelo, non lo vai i tifosi perché stanno vivendo un anno difficile, drammatico quanto noi, ma loro hanno una maglia cucita addosso e quindi ci rendiamo conto. E lavoriamo quotidianamente anche per loro. Quindi questo è un segnale che noi ci siamo e lottiamo fino alla fine. Tra gli aspetti più positivi, mister, oggi direi anche la prestazione del centrocampo. Era stato detto nell'ultima partita, non è solo la difesa che deve alzare la squadra, ma è il centrocampo che deve farlo. L'hai ripetuto anche in conferenza stampa per gara. Oggi direi che i tuoi centrocampisti hanno accolto in pieno questo messaggio. Sì, ci abbiamo anche lavorato, nel senso che è la verità. Non puoi pretendere che la difesa sale se i centrocampisti sono in braccio a loro. Tu puoi anche passare dei momenti della partita in cui sei un po' più basso, come è successo anche oggi. Per oggi c'erano tante cose indietro, c'era compattezza e nella compattezza i centrocampisti riuscivano a dare pressione nei 40 metri. E quello è fondamentale. Se manca quello, inevitabilmente con qualsiasi modulo tu ti abbassi, come è successo nell'ultima gara. Adesso mister si torna subito al lavoro. Sabato c'è un altro impegno importante in casa. Da 20 tifosi, come hai detto prima, oggi la dedicava loro. Immagino che si voglia continuare a regalargli qualcosa anche in futuro. Noi ci dobbiamo regalare la salvezza, c'è poco da fare. Ci siamo, oggi lo abbiamo dimostrato con i fatti, oltre che con le parole. E quindi è un segnale importante. Giochiamo in casa. Io ai ragazzi, quando sono entrato, ho detto solo una cosa, non gli ho fatto neanche complimenti. Ho detto ricordatevi di Cittadella, perché dopo Cittadella è venuto Cosenza. Quindi bisogna stare concentrati sul pezzo. Abbiamo fatto tanto, ma non abbiamo fatto nulla. Tanto per costruire un qualcosa che propedeuticamente ci può dare. Però non ci dobbiamo fermare qui. Nicolo Contigliano al termine di Benevento Spal. Oggi una vittoria molto pesante. Una vittoria su un campo difficile. È arrivata al termine di diversi giorni in cui vi siete compattati. Ci siete a contatto, prima in ritiro, poi in ritiro pre-gara. Quanto è stato importante questo secondo te ai fini della vittoria di oggi? Ecco, partire per un ritiro, magari 4-5 giorni prima, stare sempre insieme, comunque vedersi ogni giorno, stare in gruppo, allenarsi, stando con la testa, concentrati, ci ha aiutato molto. Ci ha portato a lottare ognuno per l'altro. E' stata una vittoria importantissima, ma come dico bisogna continuare su questa strada e tenere la testa bassa. E' la tua terza partita consecutiva da titolare. Per te che sei cresciuto fin da bimbo con questi colori addosso, posso chiederti quale sia l'emozione di vivere certe partite, certi stadi, certi contesti con la maglia della tua città? Ecco, dopo dieci anni arrivare alla prima squadra e vedere stadi come questi, come quelli che ho vissuto in queste tre presenze, è stata un'emozione grandissima perché vedi il stadio grande, tante persone, tutto concentrati che ti guardano, però bisogna sempre rimanere concentrati, non far andare al di fuori l'emozione, e quindi bisogna stare sempre lì con la testa, però è stata un'emozione incredibile. Come ho detto, è l'inizio e si continuerà su altre presenze, spero. Tornando alla partita di oggi, il centrocampo globalmente ha offerto un'ottima prestazione, sei visto proprio un affiatamento che cresce tra gli interpreti, sei d'accordo con questo? Come hai vissuto dal campo questa sensazione? Oggi secondo me, diversamente da altre partite, siamo stati molto più compatti a centrocampo, ci siamo aiutati, abbiamo parlato che questo è fondamentale, la comunicazione in campo, abbiamo corso per 95 minuti, penso sia stata la cosa fondamentale per arrivare al risultato.